hola 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 da berro e anche da fronzo che in questo momento sta tornando da parigi stanno giocando con noi ikimotor buongiorno e il babone da questo momento sono bandite le bestemmie che poi mi arrivano le persone che che si sentono offese dai concetti allora oggi che cazzo è che dobbiamo fare che non ho mica capito alla fine andare in un mondo parallelo a mettere i guerri a mettere i guerri ma e se un mondo di merda che tipo c'ha l'hunger il veleno e le schifezze come facciamo non ti preoccupare sotto terra basta stare sotto terra come sotto terra si se ti toglie l'effetto una cosa tutti gli altri malus se vai sotto terra spariscono allora facciamo l'unico che tipo ti rimane quello lì della minim fatighe che sottolineiamo non è una bestemmia no 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 il fatighe non è una bestemmia allora al di là di questa cagata delle bestemmie allora 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 si facciamo così allora se è un mondo buono piantiamo il query se è un mondo di merda piantiamo una nook vi va si ci va ci va ci va dai aspetta che mi faccio un paio di nook così per essere sicuro anzi aspetta vediamo qua un caso tu fai le nook volevo sfruttare se Mabba non mi picchia sfruttavo l'occasione per dire che ho un problema tecnico con il computer quindi fra un paio i miei video non si vedranno nooo come potremmo resistere come potremmo insultarti i miei utenti che cazzo sono stracoccoli tipo io ho detto andate a insultare i chi perché ci mette i video sbagliati i tempi sbagliati e sono venuti già a raidarti le board tipo ok mi compro 3 nook completamente a caso non so ascolta un attimo ma allora io tipo tra l'altro qua c'ho il problema che non mi viene la ricetta della nook si faceva con cinque polveri da sparo e quattro uranio o viceversa questo non mi ricordo e dovrei andare a controllare aspetta un attimo se Mabba promette che non mi picchia vado a controllare no io più che altro te che mi hai dato una fiocchettata nel culo allora tra l'altro quando ho iniziato a registrare il bo come al solito tanto ormai ho deciso che la smetto di guardare i tempi perché tanto quando li guardo vado sempre fuori allora vediamo se te c'hai un singularity compressor qua eccolo qua che ha io non ha energia perché non ha energia io no non ha energia e singolare ti compresi che c'è la bug a caso allora 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 facciamo così adesso facciamo la prova con quelle con le gunpowder cioè nel senso con 5 gunpowder e 4 urani e mi pare si facesse così un secolo che non faccio una nook cazzo mi sento tipo quello che è che trova i regali nell'albero no allora la nuke giusta si 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 no hai fatto giusto ok ho fatto 3 nuke si ok ora possiamo andarci a divertire esattamente e dov'è che facciamo questo nuovo mondo no vabbè ragazzi vieni a casa di pinno che ne abbiamo già 2 o 3 vieni a casa di pinno a piantare le nuke ah quindi come potete vedere noi abbiamo 2 o 3 esattamente ne abbiamo 44 no quanti ma dei che libri di mondi da far saltare ah bello madonna santa quanta cazzo di roba c'è quanto ne avete fatti eh alla ricerca del mondo perfetto e quindi alla fine l'avete trovato sto mondo perfetto no figurati anzi abbiamo trovato uno stiamo cercando il famosissimo dance ore per crearci poi il mondo io ho fatto tipo 4 linking book adesso faccio anche 4 stendini ma ci abbiamo già tutto qua ah si allora aspetta che li butto anche via i linking book ma siete sicuri che non è che è tipo qua i linking book ce ne sono 7 no non hai capito tipo quelli per tornare indietro non quelli per andare avanti ma li abbiamo già pensati no ma non possiamo diatomizzare il linking book del mondo è che ricordatelo appunto ci abbiamo già no ne devi piacere un altro quello per tornare indietro ma ma sei diventato negro ma porca puttana ma se abbiamo già se abbiamo già visitato il mondino e ci abbiamo già sti cazzo di linking book aaaaaaa ma se noi li facciamo di atomizzare per errore insieme ah vabbè minchia ma adesso ho fatto un letto cazzo di sfighe maia c'è dillo non ti ha bisogno di girare con i peperoncini nel culo allora boh io ho fatto così e po' boh perché dici che porto così sfortuna ma dio sei come ma ti porti sfiga ok allora io nel dubbio mi faccio 9 linking book e basta minchia si presenta coi catenacci con i peperoncini attaccati ok io sono pronto cosa devo fare adesso dai vuoi dire qua che sono chi c'è corris facciamo scegliere il mondo ai chi vuoi vedere che piglia quello dove quello di merda si va di chi va di ah te ne sei ma scusa scusa il 36 cos'è che c'è qua ma 36 mondi avete fatto porca puttana 44 piccola che ti fa vedere io non mi guardo io non vado a controllare nooo inferno in terra vado a vedere io in 30 senso dovresti sapere dovresti vedere cosa è inferno in terra meglio non andare meglio non guardare ma sei andato via i chi no sono dentro al mondo e si può ok questo qua possiamo farlo subito vengo? si vengo a questo qua oddio cosa c'è cosa c'è cosa c'è a me trema se stai sotto gli alberi e sparisci io sono alla luce del sole e non ho un cazzo devi fare così come faccio come faccio io ah eccolo adesso mi vedi? si mi vedi? mi vedi? si ti vedo vedi? vedi? ti vedo ti vedo ma basta sono dietro di te ma che cazzo ahia ok da raga io quarry e energy cell mettiamo quarry o mettiamo la nuca? no no questo qui questo qui è il mondo da quarry perchè ah perchè è buono ok va bene allora vi faccio giocare prima di di farla nuca oh aspetta arrivo subito visto qualcosa corre arrivo oddio ho visto il cosa nero ma se io mettessi una nuca vaffanculo tanto no no niente nuca dai ma vado dall'altra parte dai ma bobbia metto la nuca vicino no 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 questo no prima metto oh via con qualcosa dai piasso qua tanta tanta for co diec tigliato male vieni qua animale dai e non la metto c'è la metto in un altro parte ah vediamo un attimo dunque x io dai ma mi piace sta sto quarry piaccia sto quarry o mi piace la nuca? non so come funziona il quarry lo piazzo completamente dammi qui il quarry dove sei? son qua nero dammelo qua fa un rumore tipo di sabbiazza la nuke chissà se tutte le bombe atomiche sono così facili da defusare ma avete portato anche i cosini tipo per oddio il query te lo pianti qua così? si anzi scusa aspetta eh appunto hai bisogno di quelle cagatine alla blu no? no devo faccio standard io ho due redstone engine se ti servo non so che cose no no adesso ti faccio vedere devo solo prendere il punto giusto vai via vai via vai via guarda che se metto la nuke a sta distanza penso che veniamo cancellati dalla faccia della terra a tutti quanti dai vieni metterci la cassa di fianco ma scusa un attimo ma la fai così piccolo non lo fai tipo 2000 per 2000? ma te lo fai insegnare a Maba come si fa ah ok così a Muzzo piazza una cassa? metti la sulla destra e adesso sulla sinistra metti il la redstone sti cazzi e via costruzione e vedi che praticamente sta roba va laserizza eh ma quello lì è con è perchè c'è l'NV6 che fa andare così veloce cosa che mi ha lanciato una freccia holy shit e niente la finisce e basta oppure se proprio vuoi bloccare guarda come è veloce guarda 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 che figata porca puttana siamo in altezza 145 minchi hunger 3 ma mi va via immediatamente la fame ma state scherzando basta il suo sito di un albero ma che alberi chi se ne frega eh vero what the fuck guarda come se la viaggia se la viaggia di brutte si si bene ma adesso mettiamo stanuk in un altro mondo Ray il problema è che si riempirà velocemente la cassa prima di trovare materiale sentite fate quello che volete io metto la nuca No, no, vabbè, che cazzo Ma mettiamolo dall'altra parte, cazzo, è grande sto mondo, eh C'è spazio per tutti, anche per una nook Sì, allora andiamo Dai, trovo più materiali di voi in dieci secondi che non voi con il vostro cuore di merito Dove sei, dove sei? Eh, sono andato via, cavolo Mab, adesso tu non potrai vedere la distruzione, cazzo Ecco, Mab, fermo lì, fermo lì, mettiamo qua No, no, col cazzo Allora, aspetta un attimo Che non prendo... Eh, vieni a vedere l'inaugurazione della nook Oh, ma guarda che, guarda che vicino al cosa, eh Ma cosa al vicino, cazzo, sono andato lontanissimo Mica è così grossa la nook Insomma Eh, pff, icchi, vabbè Siamo pronti? Vieni, ci accompagni Potremmo essere tutti per essersi registrati nel mio canale Oh, via, 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 via Oh, l'ha accesa, l'ha accesa, via Via, via, cazzo Madonna Cazzo, forse è veramente troppo vicino Impatta? Dai che impatta Via però, oh, Mab, ti muori, eh È andata Minchia, mamone Ti sei salvato per un niente Non vedo un cazzo Eh, no, ma adesso Eh, adesso arriva la radiazione Mi sa che moriamo tutti come dei negri Dici? Eh Ah, no A me non è ancora arrivata la sleppa A me è arrivata una sleppa Ma penso che sia stato Perché non avevo più vita Però io voglio andare a vedere, cazzo Io sono un negro curioso Sì, anche io L'unica cosa è che qua penso che ci sia Ma guarda che ha rischiato tantissimo il libro Ah sì? Gli è arrivata a poca distanza Sembra tipo La bomba del tuo corpo Ma non c'è un cazzo Che Che Guarda che qua è tutto pietra, eh Credo, ma hai visto a che altezza siamo Ah, no Mi ha salvato anche la leva Che forte Quasi quasi ne metto un'altra Di nuca Sì, sì, possibilmente lontano Questa era un po' troppo vicina Amico Fritz No, questa qua, cazzo Mettila, mettila, mettila sotto però Scama un po' in po' Appunto, la metto qua sotto Così è tutto perfetto, no? Ah, stavolta io mi tocco dai coglioni Mi nascondo anche sotto terra Vai, vai Cazzo, siamo passati di livello Prima Prima Tipo Facevano saltare le cose con la polvere Della Runic Dust Adesso Però facciamo Le fosse di Che fa Goku Quando lancia la sfera Esattamente I crateri Madonna, guarda che bello Il craterone è perfetto, cazzo Sì, sì, perfetto questo qua Ok, attimo, andiamo Via Andate, andate, andate Oh, cazzo Porca puttana No, no Cos'hai fatto? Cosa succede? Ok, ce l'ho fatto Per poco morivo Mi sono scaricati i pantaloni come minimo Urco Giuda Non posso andare sopra Mi sa che Di nuovo è andata Eh, sì Perché si è riaggiornato il Chung Il Chung Sì, ma non so mica È qua Piove, puttana Polviscolo radioattivo Ah, no È semplicemente che piove Oddio, che cazzo è? Ma siamo in altissimo Ecco perché non si trova un cazzo Ragazzi, a che altezza siamo? Ma te l'ho detto prima Siamo a 141 di altezza Ah, ma siamo nelle nuvole, cazzo Abbiamo fatto saltare l'appartamento di Gesù Vabbè, pazienza Sta attento che poi bene Vabbè, oh, insomma Gesù era più o meno umano Non è che ho bestemmiato Gli ho solo detto che Gli ho fatto saltare la casa E vabbè, ma allora Scavalcorre le nuque qua Non è proprio il massimo Nel senso che Non si trova materiali A queste altezze Vediamo cosa ho trovato io Il cazzo Pietra, 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 pietra Eh, sono pietra Ebbè, direi che urge mettere l'ultima nuca qua Perché Ok, io l'ho attivata, andatevene fuori dai coglioni Allora io sono andato da Mabba Ah, bene, ottimo Minchia, non so vicinissimo Aleva, tira cazzo di Eh, ma è morto No, non sono morto ma Ho rischiato Ma state attenti a quel cazzo di Linkinbook, eh, lì Dopo mi fate vedere la domanda che ho messo Non mi lascia Non mi lascia Io mi rilascio, poi quando finiamo fottuti, sono cazzibossi Vabbè, tanto ne abbiamo altri Linkinbook, madonna Che belli questi crateroni da Linkinbook No, no, più che altro Sono belli bù Da riempir di lava, porca puttana che bello Ho trovato anche i primi materiali Perchè siamo ad altezza 117 Infatti ho visto che il Teikimoto sta Stato dentro come un disgraziato Ma va, ho beccato soltanto una vena di carbone, niente di che Sì, infatti Bello grasso, cazzo, eh, però Ma dov'è che c'era il Linkinbook? Che non ho mica capito È qua Non mi dite che è quello stendino minuscolo Che era tipo a un centimetro fuori dal cuore Qua dove sono io? Non ci posso credere Aspetta un attimo Dai che sto perdendo la fame Tipo mio sei lento, eh Non vive Dio Cristo Per 10 quadretti non l'ho beccato, tipo Sì, infatti Pesante Oddio, qua sono caduto Boom Che che Trovato Eh, va bene Guarda che 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 Che hai fatto? Ah era un creeper La 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 Ti senti? In diretta In diretta ragazzi Non dico altro ma avete capito cosa Uh è arrivato un creeper e ti ha fatto saltare il cuore Un creeper mi ha fatto le feste E adesso scommetto che sei felice come una Pasqua Eh sì infatti mi sto un po' trattenendo Guarda qui c'è della carne di maiale Non l'avevo trovata Maffanculo Meno male Io vi abbandono e torno nel mondo normale Sì ma direi anche io Tanto ormai direi che qua Io ho fatto tutti i danni che potevo fare A me i più danni me li hanno fatti Quindi possiamo andarcene Ok Beh quindi niente Praticamente L'esperimento cuori è fallito E l'esperimento nuca anche Cioè i mondi di merda Sono così di merda Che non funziona Basta Che non funzionano le nuca Perché siano troppo in alto E i cuori perché li fanno saltare i creeper Bella puntata di merda Cosa vuoi dire più dalla vita Bella puntata da merda Esatto E pensa che io ho iniziato a registrar dopo E pensa che l'idea di fare questa puntata È stata di Maba Esatto No veramente No sì Boh non mi ricordo Ricordatevi di Maba Quando guardate questo video Va bene Ok Dato che Niente Abbiamo fatto questo esperimento fallito Penso che in caso Non torna a casa triste Io Pab Tiremo una sberra Mondi buoni Sotto vari aspetti Leggi la descrizione Ma quanta cazzo di roba c'è in sto posto Selle Cosa avete trovato? Fanno schifo sti mondi Fanno schifo Sì ma perché avete tutte le stesse selle Tutti sti dischi Tutti sti enchanted book Dove li avete trovati? Eh perché abbiamo Nei mondi Li abbiamo trovati in giro tra i mondi Ma dai Io Pim e Maba Solo che io devo caricare ancora un episodio Che ho Avendo tutto il computer Lento non funziona No in riferimento Basta tirarmi le le fate cazzo Io l'unico che avevo di Ce l'ho anche io la manella La manella Small bion Ichi Adesso fai meglio Andartene fuori dalle palle Banda energetica Fantastica Io me ne vado Dove si è schiantata la bomba? Vabbè ragazzi io chiudo qua il video eh Sì anche io Va bene allora dato che nulla Dunque salutiamo Iki Motor Addio Salutiamo il Mabone che ha giocato con noi E ho registrato anch'io Bravissimo E quindi Adios a Todos Porco Giuda Comunque io adoro i Fabricator Cazzo Cioè tu metti qua E ti si fulmina tutto quanto Sì effettivamente Max ma come pensi di riuscire a fare 288 Pazzi di No 588 Guarda che sono già a buon punto Io sono a 64 Pezzetti di Ridium Abbiamo detto che me ne servono 588 diviso 7 84 Quindi ancora 20 pezzi di Ridium Che moltiplicati per 7 UU Meter E vuol dire 144 Quindi un altro paio di stacche e mezzo Di UU Meter E ci sono E poi potremo fare il nostro progetto segreto Ha 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 ha